E' dopo subito in prima posizione, bello, bello Guarda che blanco stiamo, 42 Che chiamiamo? Il cane qua Ma è qui ci vuole la moto da cross, è vero? E' su clubhouse, e su clubhouse, no? Esatto, le assenze di via Ma che forse? Esce, esce Che esce? Si, è uscita Finalmente, è bella, è bello Ma il numero di ciò Aspè, la fase dobbiamo tolgla Ok, vai Ma che cosa è questa? E' un'attività Che si fa Sciamortale che è bellissimo E' quello che si fa prima con il Darnante Eh? Il Darnante è bellissimo Il Darnante è... Ma allora provati e vedi se c'è Sciamortale Se vedi scritto che c'è scritto Sciamortale Eve E muoviti però che scade Scade duro un po' E mu- vai Vai Non è clubhouse Sciamortale Eve, fallo fallo Viva E' quattro Come quattro? Eve, quattro 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 Cifre romane Ah, sciamortale Molte Ora, mattina Prima piccine Sì Siamo lontani Inoltre abbiamo cinque minuti Vite nella squadra Confermi impostazioni Confermi impostazioni Uno a quattro Tutti Tutti nella sessione attuale Evitato Boh, guarda quanti sono E come si fa? Ah, blocca E noi Doviamo essere per forza In quattro Perché? No Uno a quattro Uno a quattro Uno a quattro Uno a quattro Vabbè, guarda Spingi seleziona Da solo devo fare Allora Aspetta un pochino No Per forza di quattro I giocatori Vedete I giocatori cercano di eliminarsi A vicenda Sfruttando le linee Prodotte dalle rispettive mostre Perché dici il giocatore Da uno a quattro Se il giocatore c'erano Che cosa faccio? No Per forza di quattro Quando vedi uno di quattro D D Ah Uno di quattro Ehm No Allora niente Non va bene questa quattro Non va bene Non va bene Non va bene Per forza Sfire Non è più Una Vai bene E non mi ha Nascotto solo La canica Ma E Il giocatore E Il giocatore D Il giocatore E Oh eeeh uoho ma mi penso 4 da 1 a 4 eh no, da 1 a 4 non so, come mi penso che si intanto qua ma quella persona che cosa è questa eeeh non lo so nooo, abbiamo perso tutto che cosa abbiamo perso? abbiamo perso 3 anni abbiamo perso tutto cosa abbiamo perso? i soldi? le auto Ok, 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 so, are you ready? Oh, ok, so, this should be pretty easy. I've kept it simple since you all seem pretty simple. In a good way, in a good way, straight ahead, low IQ, kinda... OOOOH, NO, STOP IT! It's the new meds. Ok, armed robbery, here we go. Here it is. Keep it simple. You go in heavy, you go in well armed. Some of you will do crowd control. Il team di bambino va a andare su un po' di bambino e va a andare su un po' di bambino e va a andare su un po' di bambino. Il team di bambino va a andare su un po' di bambino e va a andare su un po' di bambino. Il team di bambino va a andare su un po' di bambino e va a andare su un po' di bambino e va a andare su un po' di bambino. Il team di bambino va a andare su un po' di bambino e va a andare su un po' di bambino e va a andare su un po' di bambino. Il team di bambino va a andare su un po' di bambino. Il team di bambino va a andare su un po' di bambino e va a andare su un po' di bambino e va a andare su un po' di bambino. Il team di bambino va a andare su un po' di bambino e va a andare su un po' di bambino. Il team di bambino va a andare su un po' di bambino e va a andare su un po' di bambino. Il team di bambino va a andare su un po' di bambino e va a andare su un po' di bambino. Grazie.